A Calatabiano lentamente si organizzano i gruppi in vista delle prossime elezioni amministrative. La settimana prossima potrebbe già svelare simbolo e nome il presidente del Consiglio salvo trovato da mesi candidato sindaco in pectore. Trovato pare abbia già raggiunto l'accordo per il sostegno dei consiglieri uscenti Silvana Dallura e Nunzio Foti, mentre tra qualche giorno dovrebbe sciogliere le riserve anche Rosario Prestipino, anche egli consigliere uscente. Mentre Francesco Franco è stato al fianco di Trovato sin dalla prima ora dopo l'uscita dalla maggioranza. Potrebbe non ricandidarsi pur sostenendo Trovato invece l'attuale vicepresidente del Consiglio, Salvo Turrisi. Sulla carta trovato in lista ha ancora tre e quattro posti liberi, così come Giuseppe Intelisano, sindaco uscente, che riparte dal granitico supporto dei fedelissimi assessori e maggioranza, tutti ricandidati. Dalla settimana prossima Intelisano vorrebbe tenere alcune riunioni per valutare proposte di candidatura e ragionare sulle coppie della doppia preferenza. Considerato che Antonio Petralia non fa marcia indietro, in queste ore però stanno nascendo i presupposti anche per la quarta candidatura a sindaco all'ombra del Castello. Infatti sarebbe pronto a scendere in campo l'imprenditore Stefano Di Bella, pronto a lanciare un suo progetto civico fuori dagli schemi.